Da qui a settembre dovremo individuare il soggetto che andrà a collaborare con l'amministrazione e con i privati che vorranno installare queste telecamere e che fornirà un servizio e un hardware a costo, contiamo, calmerato. Sta per prendere forma la riorganizzazione della videosorveglianza nel comune di Arezzo. Dopo una prima presa di coscienza delle falle nell'attuale sistema, l'amministrazione sta dando forma ad un nuovo progetto. Certo è che in alcune zone della città, come ad esempio Campo di Marte, le telecamere sarebbero quanto mai necessarie. Attenzione sarà data anche alle periferie. Sono in previsione tutta una serie di installazioni, dovremo fare un accordo ovviamente con la prefettura perché le zone più critiche verranno individuate di comune accordo e dopodiché il nostro sistema di videosorveglianza verrà implementato, abbiamo a bilancio una somma per quest'anno di 150.000 euro e crediamo di dare già una buona risposta in termini di aumento di postazioni per monitorare la nostra città. Il punto di riferimento rimarranno le forze dell'ordine nel suo insieme e quindi Polizia Municipale, Carabinieri e Questura che attualmente sono tutti allacciati al nostro sistema di videosorveglianza, anzi Carabinieri ancora no, ma i lavori sono in fase di esecuzione e quindi a breve tutte le forze dell'ordine potranno monitorare in tempo reale tutto il nostro territorio.